Filetto di salmone con un pochino di pangrattato, olio, sale, pepe e timo. In forno per una decina di minuti. Non lasciatelo troppo, se no diventa troppo asciutto. Tartà di tonno fresco con semi di sesamo, tostati e salsa di soia. Oh oh oh, arrivo tardi. La tartare grossolana di salmone con salsa di soia e semi di sesamo tostati è già quasi finita. Una morbidezza perfetta. Filetti di tonno appena appena scaldati, tostati, con semi di sesamo tostati. Patate, carote e cipollotto freschi saltati in padella. Buona degustazione a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!